dunque amandoti necessariamente del maggiore amore che tu sei capace necessariamente desideri il più che poi la felicità propria e non potendo mai di gran lunga essere soddisfatto di questo tuo desiderio che è sommo resta che tu non possi fuggire per nessun merso di non essere infelice tra il primo e il 3 aprile del 1824 giacomo leopardi ha scritto il dialogo di malambruno e di farfarello un'operetta che forma un trittico con il dialogo della natura e di un'anima e il dialogo della terra e della luna dico che queste operette forma non trittico perché in esse leopardi si sofferma sul tema della infelicità nel dialogo di malambruno e di farfarello afferma che l'infelicità è condizione ineliminabile dell'esistenza umana nel dialogo della natura e di un'anima afferma che la causa di questa infelicità è la natura e nel dialogo della terra e della luna afferma che l'infelicità è una condizione cosmica ovviamente molto spazio in queste operette ce l'hanno le riflessioni che leopardi andava svolgendo sullo zibaldone in merito all'amor proprio e alla teoria del piacere nel dialogo di malambruno e di farfarello giacomo leopardi si affida a due personaggi presi in prestito dalla grande tradizione letteraria europea malambruno infatti è un mago che noi incontriamo nel don quixote di cervantes mentre farfarello è un diavolo dantesco presente nei canti 21 e 22 dell'inferno ad aprire l'operetta è malambruno che forte dei suoi poteri magici evoca gli spiriti degli inferi di conseguenza si presenta davanti a lui farfarello che si mostra servizievolo e disposto a obbedire agli ordini e malambruno gli dice che effettivamente qualcosa da chiedergli ce l'ha ha bisogno di farsi esaudire un desiderio farfarello non ascolta neanche di che desiderio si tratta e comincia a fare le sue proposte dice che lui può donare a malambruno una nobiltà superiore a quella degli atridi oppure che può donargli ricchezze superiori a quelle che un giorno verranno trovate nel mitico eldorado o ancora farfarello dice che lui può donare a malambruno un impero grande quanto quello che si dice venisse sognato da carlo quinto durante la notte e infine se tutto questo non bastasse potrebbe donargli anche le voglie scrive leopardi di una donna più salvatica di penelope il punto è che malambruno non vuole niente di tutto questo il mago anzi ogni volta che farfarello gli fa una proposta risponde con una secca negazione il diavolo si trova dunque a corto di argomenti e chiede infine che mi comandi come a dire vabbè allora cosa vuoi da me e malambruno dà una risposta spiazzante malambruno gli dice fammi felice per un momento di tempo a questo punto le parti si invertono adesso è farfarello che risponde con una secca negazione dice non posso malambruno è sbigottito come non puoi e farfarello insiste ti giuro in coscienza che non posso frase paradossale questa un diavolo non ha una coscienza quindi non può giurare in coscienza qui leopardi cerca e ottiene un effetto comico malambruno in ogni caso è indispettito comincia a diventare addirittura minaccioso ma farfarello tiene il punto gli dice che lui non può in alcun modo esaudire questo desiderio e non potrebbe esaudirlo neanche belzebù se salisse sulla terra quel che chiede malambruno è impossibile da realizzare e si badi malambruno non ha chiesto la felicità ma ha chiesto di essere felice per un momento di tempo cioè ha chiesto di essere felice anche solo per un attimo ebbene è impossibile essere felici anche solo per un attimo qui leopardi sta dicendo che gli uomini non hanno alcuna speranza di conoscere la felicità ma come fa leopardi ad affermare una cosa del genere per rispondere a questa domanda dobbiamo tener presente quel che leopardi ha scritto come ho anticipato nello zibaldone sul sull'amor proprio e sulla teoria del piacere il tema dell'amor proprio leopardi lo riprende dalle letture illuministiche che ha fatto negli anni di studio matto e disperatissimo nella biblioteca paterna e sostanzialmente lo svolge come segue ad avviso di leopardi ogni essere vivente non solo l'uomo ma ogni essere vivente dal momento che viene al mondo sente di esistere percepisce la sua presenza e nel momento in cui percepisce la sua presenza si ama ritiene di essere la cosa più importante dell'universo anche solo inconsciamente e dal momento che ritiene di essere la cosa più importante dell'universo desidera il maggior piacere possibile per se stesso e il maggior piacere possibile è un piacere infinito oltre all'infinito è impossibile desiderare chiaramente e qui arriviamo alla teoria del piacere il problema di tutto questo sta infatti nel fatto che l'infinito non esiste non c'è nulla che sia infinito secondo leopardi tutto ciò che è è necessariamente finito perché tutto ciò che è è qualcosa ma per essere qualcosa deve anche non essere ciò che non è e dunque deve essere limitato deve essere distinguibile da ciò che non è e quindi l'infinito non esiste tutto ciò che esiste essendo qualcosa non è infinito di conseguenza il nostro desiderio di infinito e il desiderio di infinito di ogni vivente è destinato alla frustrazione è destinato a incontrare beni finiti quantitativamente limitati che potranno soddisfarlo temporaneamente ma che poi lo faranno ripiombare nella stessa inquietudine nella stessa frustrazione in cui si trovava prima di sperimentarli è per questo che è impossibile essere veramente felici secondo giacomo leopardi a questo punto malambruno quasi rassegnandosi chiede se almeno può non essere infelice è impossibile essere felice ma sarà almeno possibile non essere infelice e la risposta di farfarello è molto chiara lui gli dice se tu puoi fare di non amarti supremamente è possibile non essere infelici a condizione però di non amare se stessi come se si fosse la cosa più importante al mondo ed è una risposta logica se noi desideriamo un infinito inesistente a causa dell'amore che proviamo per noi stessi dobbiamo togliere di mezzo quel desiderio togliendo di mezzo l'amore che proviamo per noi stessi ma malambruno mostra anche la difficoltà di una simile operazione malambruno infatti risponde a farfarello dicendo cotesto lo potrò dopo morto e farfarello risponde affermativamente è vero una cosa del genere è possibile solo a condizione di azzerare la coscienza che si ha di sé se si ha coscienza di sé ci si ama c'è poco da fare e se ci si ama si desidera ogni volta sempre di più solo se non si ha coscienza di sé ci si può liberare da questa gabbia del desiderio e come si fa a non avere coscienza di sé si è privi di coscienza di sé ci si dimentica di se stessi se non si nasce meglio sarebbe non nascere secondo leopardi ma dal momento che si è nati meglio sarebbe morire oppure in alternativa si può anche sperare di perdere coscienza di sé scrive leopardi in quest'operetta attraverso un sonno senza sogni oppure in condizioni di perdita di sentimenti di perdita dei sensi in queste condizioni è possibile abbandonare sia pure momentaneamente coscienza di sé è possibile sia pure momentaneamente dimenticarsi di se stessi ma perché la soluzione sia radicale perché la soluzione sia definitiva bisogna non essere al mondo bisogna non nascere oppure bisogna morire e quindi con una ironia amara farfarello al termine di questa operetta dice a malambruno che se vuole può portarselo all'altro mondo anzitempo